Sin dal 1959 VG, il primo gruppo di supermercati nato in Italia, propone fantastiche offerte. E ancora oggi approfitta della promozione 1 più 1 su tanti prodotti delizi e VG. Un prodotto lo paghi, l'altro è gratis, in tutti i supermercati del gruppo VG. Gruppo VG, benvenuto nel tuo mondo.